Posso parlare quest'anno? Sì, puoi parlare. Questo qua è il Pullman che ci condurrà da Colombo a Polonarugua. Siamo arrivati a Colombo, da quanto siamo arrivati? Da Colombo da due ore. Da due ore, siamo già in partenza perché tanto Colombo la teniamo per l'ultimo giorno. Questa qua è la fermata di Pullman. A domani.